Deve essere approvata, cosa che speriamo, come abbiamo già detto, il nostro patrimonio immobiliare va rinnovato e innovato. Ci sono degli aspetti importanti su questo piano casa e si vede già una programmazione nel tempo, cosa che prima non c'è stata. Un altro aspetto molto interessante è il fatto del cambio di destinazione d'uso. Abbiamo degli immobili che non sono utilizzati, ma dal prossimo anno si spera di poterli sviluppare nel migliore dei modi. I nostri clienti sono molto esigenti, il mercato è straselettivo, nessuno ha intenzione di deturpare il territorio, la Liguria non è solo sole e mare, ma è anche un bellissimo parco che non solo è quello di Portofino, ma tutti i parchi in giro. Quindi i clienti, soprattutto quelli internazionali, ci amano e tornano in Liguria per questo. Gli imprenditori non deturpano e non stravolgono il territorio Liguria.